Ritorna l'assegno di sopravvivenza varato dall'aggiunta di Polistena. L'amministrazione comunale con la delibera numero 49 del 14 aprile 2015 ha stabilito l'importo dell'assegno di sopravvivenza in base al numero delle domande ammissibili. Sarebbero circa 70 da erogare nelle prossime mensilità con decorrenza a partire dal gennaio 2015. L'iniziativa, che è giunto ormai al terzo anno consecutivo, è stata possibile grazie ai risparmi sugli stipendi di sindaco e assessori accumulati nel quinquennio, un tesoretto di circa 270.000 euro restituito in tre anni sotto forma di assegno sociale, nel 2013 per sei mesi, nel 2014 per tutto l'anno, così come nell'anno 2015, quando è stato confermato lo stanziamento di 120.000 euro. In bilancio destinato all'assegno di sopravvivenza, il fondo consentirà agli eventi diritto di beneficiare di un assegno di circa 147 euro al mese. Non appena sarà pubblicata la graduatoria si procederà ad erogare la mensilità agli eventi diritto che percepiranno l'assegno con cadenza mensile fino a dicembre. La città di Polistena, precisa il sindaco Michele Tripodi, grazie all'operato della nostra amministrazione continua a distinguersi rispetto a molti altri comuni, specie per le iniziative rassunte nei servizi sociali. La provocazione, che dal 2013 in avanti è partita da Polistena con l'assegno di sopravvivenza, non è stata però colta da chi ha governato ed oggi governa la nazione, ancora troppo sordo rispetto alle esigenze sociali e non in grado di creare strumenti alternativi per dare un senso alla vita delle persone in difficoltà, come il reddito di cittadinanza o il salario minimo garantito. Lo sforzo dell'amministrazione comunale di Polistena con l'assegno di sopravvivenza rimane quello di continuare a tendere una mano ai meno abbienti e ai bisognosi.